Buongiorno, benvenuti in un nuovo video, un'altra giornata insieme a me. Oggi il mood, vi dico già, che è così, mermaid melody. A casissimo, a casissimo. Stavo ascoltando Shuffle la musica, mi è partita una canzone e ho detto no, vabbè, sto male, le devo ascoltare tutte. Mi sono già preparata oggi, ho editato il video di ieri e adesso stiamo andando con mia madre a fare la spesa. Quindi oggi facciamo una sorta di blog incentrato sulla spesa e dopo vi faccio anche lo suota, la spesa ovviamente, perché è un botto di tempo che non andiamo a far compre di cibarie varie, di alcune cose i prezzi sono anche saliti, tipo olio, cose del genere. Oggi ci accompagnate in questa fantastica avventura. Arrivate al supermercato, ovviamente prima tappa, insalata. La mia preferita è questa qui, mia madre è lì che sta comprando le mascherine. Qui c'è tutto il reparto VEG, se sentirete la voce di mia madre in sottofondo è così sempre. In teoria mi servirebbero i semi quelli da insalata, però qui non li trovo. Ci sono i semi di finocchio, i semi di sesamo, forse qua sopra. Qui dietro ci sono tutte le gallette, a me piacevano queste qui. Poi non mi ricordo mai se mi era piaciuto questo budino qua proteico, però lo riprendo perché non ho tempo di passare da Lidl. Stavolta mi sa che lo provo anche al cioccolato. Questo scade il giorno del mio compleanno, tra l'altro. Questo l'ho preso l'altra volta ma non mi era piaciuto, quindi no. Poi c'è questo qui con l'arachidi e cacao che non sa né di arachidi né di cacao. Questa bresaola è una delle cose più buone, guardate quanto è bella, ma 7 euro? Anche no? Ovviamente che ve lo dico a fare, latte, semi di tappo rosso. Dove l'ho messo questo? Manca anche il Philadelphia. Prendo anche questa perché io l'adoro. Quando posso prendo quelle cose senza lattosio, come prenderò anche queste. E la Philadelphia, questa qui, active. Mi raccomando, guardiamo sempre la scadenza. Non vedo la iocca quella senza lattosio, quindi credo che prenderò questa qui. Mi ero quasi scordata che fosse Pasqua e che ci fossero già le uova, effettivamente. Fatemi vedere. Allora, parte che secondo me hanno alzato anche i prezzi per le uova. Però, allora, fosse per me io mi prenderei questo. Però quest'anno zero uova, cioè proprio non le voglio e non me la voglio autoprendere. Perché si può dire autoprendere? Vabbè, altrimenti mi sarei preso questo però. Questo è dark, cioccolato fondante. Come tutto nella vita io o sono cioccolato bianco o fondente. Comunque, parte ciò questa... Oddio ragazzi, scusatemi. Ma in che senso? La cosa è che di solito faccio un breve check a casa, vedo quello che manca così so cosa prendere. Stavolta non abbiamo controllato nulla. Quindi io sto continuando a prendere roba così. Quindi se mi troverò dei doppioni o delle cose di riserva, saprò perché. Detto ciò, ovviamente che fai? Questi non te li prendi? Potevo prenderli adesso che sono state in Inghilterra, visto che venivano la metà. Uno dei miei formaggi preferiti, Tomino. Tra l'altro mia madre sta flexando praticamente con tutti i dipendenti del supermercato il fatto che io stia girando il video. Che non so neanche se sia legale, probabilmente sì, forse no. Comunque. Diciamo che il giro è stato fruttuoso abbastanza. Adesso a casa vi faccio vedere tutto. Ma non l'ha pagato lei oggi. Saluta. Ah, ha pagato un botto. Non so se siete pronti a questo suo dato alla spesa perché è veramente gigante. Io non avevo più nulla perché prima di andar via ovviamente avevo consumato le cose. Quindi ho dovuto riprendere tutto. Mia madre non è stata molto contenta. Però per una volta mi sono aggregata, ok? Ho detto, senti, sai che c'è? Ti accompagno! Lei si fida sempre. Questa ovviamente è solo una piccolissima parte. Vi faccio vedere quello che prendo. Anche se mia madre mi ha detto che una busta ci sono i surgelati, quindi iniziamo da quelli. Ovviamente ci sono cose non mie, tipo queste. Purtroppo non sono mie. Poi qui c'è il pesce. Quasi 50 euro di pesciolino. Tra cui i miei calamari perché tu devi sapere che io non mangio pesce. Se non il sushi paradossalmente, ma mangio soltanto il calamaro, il tonno, a volte il salmone, ma quello affumicato. Dovete sapere che per il cibo io sono una caca cavoli assurda. Soprattutto le cose salate. Poi banane. Che cosa ho preso? Ah, questi sono i surgelati che mangiano i miei. Non so perché ci siano anche le palle di riso o suppli come li chiamiamo qui a Roma. Carote, olive. Poi queste sono le mie verdure surgelate preferite dell'Orgel, secondo me sono le più buone. Broccoli e questo quattricolore. Più che altro per quando non riesco a fare quelle fresche e queste insomma sono più veloci. Poi le mie vellutate preferite sono assolutamente queste. La cremosa leggera che è buonissima. E questa qui sempre FINDUS che ha zucca e carote. Olio perché non si sa mai che si rialza il prezzo qua. Pancetta dolce. Le gallette quelle alla chinoa che vi ho fatto vedere prima. Qui che c'è? Un'altra pancetta solta affumicata. Usa mia nonna per fare i sughi quando viene. Poi ho preso la granella di mandorle. Questo è il figlio del fio normale che mangiano i miei. Primo salino, buono buono. Pomodori, citrioli per fare il kimchi di citriolino. Ora ho tutte le mie spezie giuste. Ci sta. Cioccolato fondente che io lo uso per il porridge. Lo metto nello yogurt. Questo qua è il mio prefe. Marmellatina di fragole. Ho preso questa qui perché non c'era la mia preferita. Che è quella di Rigoni d'Asiago. Il dessert proteico quello che vi ho fatto vedere. C'è anche la vaniglia quando lo troverò. Poi ho preso i pisellini questi così. La crema 9-45%. Questa ce l'ho nella dieta. La posso mischiare con un cucchiaino 10 grammi allo yogurt la mattina. Questa qui invece è la mia maionese preferita che è quella allo yogurt. Infatti ne dovrei aver presa anche un'altra. Qui invece cosa abbiamo? Ah, tutta la carne. Per me ho preso gli straccetti di bovino. Queste le ha prese mia madre, le coscette di pollo. Fettine di arista. Il petto di pollo. E qui c'è il macinato. Poi la salsa. Questa qui è una delle mie preferite. Ciliegina. Super zucca. Questa è buonissima. Alta tranche. Le mie salsine preferite. Cacioppi ovviamente piccante perché se io non mangio piccante non sono felice. Ho trovato la caciottina col peperoncino. Un cavolfiore. Finocchi. Non per me perché non mi piacciono. Lo yocca, quello che vi ho fatto vedere prima. Urtone gigante, bello. Le uova. Che mangerò a pranzo, tra l'altro. Parmigiano. Tone scatola. E poi c'era questo qui in offerta che è il mio preferito, quindi l'ho preso. Anche quello del barattolino. Poi ovviamente avocado. Qui che cosa c'è? Allora, i ceci e i fagioli cannellini che sono i miei preferiti. Tenerogna di spinaci. Questa l'ha presa mia madre, mi ne sapevo farlo. Ah, eccolo qua. L'altro dessert proteico. Pintarelle. Queste sono le gocce di cioccolato fondente che metto nell'olioo questa volta la mattina. I miei biscotti. Questi sono i miei affettati per fare merendine. Cosa ho preso? Petto di pollo, il mio preferito. Sacchino. Resauro e prosciutto. Queste qui sono le mie fette biscottate preferite, se non le avete mai provate, queste sono più buone. Peperoni. Tante zucchine. Tortellini. Parmigiano. Ho passato tutto il pomeriggio a sistemare delle cose. Ho rimesso a posto anche la cucina, perché non lo so, mia madre si sente in diritto ogni volta che io non ci sono di risistemare. E quindi questo è. Qui c'è anche una Gwendix. Gwendix. A parte ciò, poi ho fatto dei pacchettini di Vinted. Ormai penso quelli del punto post, UPS, quello che è, mi odiano. Ormai non mi chiedono neanche più tipo i dati, eccetera. Penso abbiano tutto salvato. Io sto soffrendo terribilmente da ieri, perché praticamente avete presente che sono andata a rimettere l'Invitaline e mi hanno messo i nuovi attacchini per l'apparecchio. Ecco, praticamente un pezzo di questo qua davanti che vi dicevo che mi dava fastidio. Ieri sera mentre mangiavo si è staccato, cioè letteralmente stavo masticando. Sento una roba dura, dico guarda se adesso non hai proprio il dente. E invece era questo cosino qua, la parte bassa. Ma c'è la parte sopra che vi giuro è tipo uno spuntone e mi sta dando fastidio qua al labbro sopra. Quindi ogni volta sto lì che gli do fastidio, ma mica si stacca quello. Quindi prossima volta che vado mi devo far riattaccare anche questo. Che noia. Detto ciò comunque adesso mi devo truccare, mi devo dare una preparata perché volevo registrare un video, sempre per ovviamente YouTube, sulla mia collezione di scarpe. Ora che ho fatto il decluttering e ho lasciato solo le principali, volevo appunto registrarvi il video. Ovviamente solo sulle scarpe invernali, quindi tipo sneakers e stivaletti, cose del genere. Non anche per le scarpe estive perché se no non la finiamo più. Quindi credo proprio che adesso mi darò a fare queste cose e poi dopo devo andarmi a togliere il semipermanente ancora. Così finisco poi anche appena torna mia madre di farle unghie a lei. Ce la faremo? Sto finendo ora di montare il vlog così lo potete vedere oggi che è appunto il 19, che è sabato. Però mi sono accorta che non c'era una fine di questo video e quindi eccomi qua. Anche se sono passati diversi giorni per chiudere questo video. È un po' diverso da quelli che faccio di solito, quindi spero vi abbia comunque intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia. Magari vi ho fatto scoprire qualcosa, chi lo sa. Detto ciò io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!